Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la fotografia e con Photoshop dedicato ai fotografi. Io sono Max Furia e in questo videocorso ci concentreremo su tutte quelle tecniche, tutti quei percorsi che il fotografo che ancora non ha preso confidenza con Photoshop in realtà vuole fare, vuole seguire. Questo perché? Perché Photoshop è riconosciuto come uno degli strumenti più fantasmagorici al mondo che ci consente di fare cose straordinarie. Ma a fianco a questa nomea, a questa ottima reputazione, in realtà c'è il lato B della medaglia, il lato oscuro della forza, che sembra etichettare Photoshop come uno strumento estremamente complicato, compresso, con una curva di apprendimento, come dicono quelli più esperti, estremamente ripida. E' difficile da imparare. Esistono sempre due approcci distinti e separati che si possono seguire quando vogliamo apprendere una nuova tecnica, una nuova tecnologia, un nuovo software. Noi, come sapete, prediligiamo quello orientato alla semplicità e alla concretezza. Ed è per quello che in questo videocorso ci concentriamo sulle operazioni essenziali, semplici, dirette e concrete che un fotografo ha bisogno di conoscere e le tecniche che ha bisogno di eseguire in maniera immediata per riuscire a lavorare da subito con Photoshop senza doversi dedicare allo studio preliminare di volumi e volumi o seguire decine e decine di tutorial prima di riuscire a capire quali sono le cose importanti da eseguire. Ecco quindi che vediamo subito quali sono i temi importanti di questo videocorso. I temi del corso sono innanzitutto come approcciarsi a Photoshop senza traumi. Non è una battuta proprio perché il concetto è di avere davanti una schermata come per esempio quella che vediamo qui estremamente elaborata, estremamente ricca, anche se nelle ultime versioni di Photoshop Adobe ha cercato di semplificare molto l'interfaccia però ci troviamo di fronte ad un panorama, ad uno scenario che è estremamente elaborato, estremamente ricco di funzionalità. Se poi incominciamo ad aprire i menu ecco che saltano all'occhio tutta una serie di funzioni che possono in qualche maniera intimorirci. Ebbene il nostro obiettivo, uno dei principali obiettivi di questo videocorso è di togliervi qualsiasi timore reverenziale di fronte a questa tecnologia perché in realtà esistono, e lo ripeterò più volte nel corso dei prossimi capitoli, esistono dei metodi estremamente semplici e concreti che ci consentono di lavorare in tutta serenità e di prendere confidenza con questo strumento in maniera agile. Secondo tema del nostro videocorso è capire per l'appunto i passaggi essenziali che ci consentono di lavorare subito. Perché dico questo? Perché per esempio una necessità ricorrente è per esempio quella del fotografo di ricalibrare il bianco di una foto. Qui abbiamo uno scatto estremamente interessante ma forse troppo caldo e quindi andrebbe neutralizzato e raffreddato un pochettino. Ecco che questa cosa si può fare veramente in pochissimi click, senza bisogno di impazzire con tecniche estremamente elaborate. Quando ci manca riferimento del grigio neutro in campo, in scena, per avere una campionatura alla quale fare riferimento, ecco che bisogna scoprire una strada semplice per andare via veloce e non incappare in problemi troppo difficili da gestire. Altri temi che andiamo a trattare in questo videocorso è usare gli strumenti che servono specificatamente al fotografo. Di quali strumenti parliamo? Parliamo, abbiamo visto un esempio, quello che riguarda il bilanciamento del bianco, un bilanciamento del bianco che deve essere facile e intuitivo da risolvere come situazione. Poi parliamo del trattamento dei colori, parliamo del bianco e nero, parliamo del controllo dell'esposizione, anche perché questo genere di problematiche sono facilmente risolvibili se per esempio proveniamo da un software come Lightroom o se capiamo quella che è la dinamica del nostro negativo digitale, del file RAW, lavorando per esempio attraverso Camera RAW. Ma se non siamo abituati a scattare con questo genere di formati e scattiamo in JPEG, ecco che saltano fuori una serie di problematiche. Allora, vogliamo utilizzare strumenti che sono familiari al flusso di lavoro quotidiano del fotografo affinché riesca a prendere proprio quella confidenza di cui abbiamo parlato dall'inizio. Ecco quindi che cosa andremo ad imparare. Parleremo di quello che è il passaggio dalla pellicola al sensore, è un passaggio fondamentale, ma questo riguarda anche coloro che in realtà nascono già nella tecnologia digitale, nascono già con la fotografia digitale. Ci serve però questo passaggio soprattutto un po' per i più giovani che hanno perso qualche dettaglio lungo la strada e ci sta, perché comunque il ricambio generazionale fa il suo lavoro, ma anche per quei fotografi che hanno sempre scattato in pellicola e che oggi si trovano a dover gestire uno strumento che è completamente nuovo per alcune dinamiche. Per chi viene dalla camera oscura in particolare, sarà una sorpresa trovare strumenti e processi che sono estremamente simili, quindi non credete a quelle voci di corridoio che dicono che Photoshop non ha nulla a che fare con la fotografia. Vedremo che è vero esattamente il contrario. L'interfaccia di Photoshop per il fotografo è un altro degli argomenti importanti. Abbiamo visto un'apertura del software che ci pone davanti a tutta una serie di strumentazioni, di pannelli, di menu. Noi la minimizzeremo e ci metteremo in condizione di avere solo e esclusivamente ciò che ci serve e avere un'interfaccia assolutamente funzionale solo per il nostro flusso fotografico. Altro punto importante è il bilanciamento del bianco, il controllo dell'esposizione di cui abbiamo accennato prima. Poi ci interesserà scoprire come lavorare in maniera semplice e si dice friendly, cioè amichevole sul colore tramite gli strumenti più semplici di Photoshop e schermare e bruciare esattamente come avveniva in camera oscura. Ripeto, questo è un concetto, quello della camera oscura, che in realtà può servire anche ai più giovani o comunque a quelli che nascono adesso con la fotografia digitale in mano, con strumenti come le nuove Reflex che sembrano essere molto distanti per qualche motivo dalla fotografia analogica fatta in pellicola, in realtà non è poi così vero. Ci occuperemo poi del ritaglio del fotogramma, della ricomposizione del fotogramma e dei rapporti di stampa, perché il fotografo è abituato a trattare in termini di formati standard come per esempio il 13x20, il 20x30, insomma tutta una serie di rapporti che poi si traducono in un flusso di stampa che per lui è più naturale. I fotografi che stanno vedendo questo video sanno di che cosa sto parlando. Ebbene poi ci avventureremo in quello che è il bianco e nero di base, le tecniche di base che ci consentono di lavorare i nostri file digitali per ottenere una buona conversione in bianco e nero. Alla fine di tutto il processo ci occuperemo di quelle che sono le regolazioni finali e la nitidezza finale che deve avere il nostro file, la nostra immagine e i formati di esportazione. Questo è un argomento particolarmente delicato e che ci interessa soprattutto se scattiamo in JPEG e non è una cosa per niente rara. Quindi non possiamo far finta che certi formati o certi modi di lavorare non esistano. Bisogna semplicemente capire qual è il flusso di lavoro migliore da seguire per quanto riguarda l'approccio a Photoshop. Photoshop che deve essere incontrato in maniera molto molto semplice. Il nostro compito sarà proprio quello di prendervi per mano e di guidarvi affinché sia veramente facile iniziare a lavorare con questo strumento capirne le dinamiche di base per poi avventurarci piano piano quasi senza accorgercene nelle funzioncine più avanzate che ci consentono di mantenere continuità nel nostro lavoro ma soprattutto di ottenere i risultati che ci servono nella pratica quotidiana. Ora il prossimo passaggio è quello di capire quel famoso passaggio dalla pellicola al sensore per arrivare poi ad incontrare le funzionalità di base di Photoshop ma lo vediamo nei prossimi capitoli.